Da lunedì 31 agosto torneranno disponibili con orario continuato, da lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, 5 uffici postali di Trapani, provincia. Le sedi interessate, che nell'ultimo periodo avevano rimodulato l'orario di apertura al pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica, sono gli uffici di via Giovanni Battista Fardella, Trapani, San Giuliano, Trentapiedi, Aerice, in provincia Alcamo, Paceco e Valderice. Accanto al programma di riapertura e ripristino degli orari al pubblico, all'interno delle sedi sopraccitate l'azienda ha installato una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l'accesso e il transito nei locali, consentendo un'attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale. Anche in questa fase, Poste Italiane raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali, avendo cura di indossare dispositivi di protezione individuale. Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 00 33 22. Aperto